il dipinto rappresenta i tre magi mentre portano i loro doni d'oro incenso e mirra a gesù appena nato l'abilità del pittore nel ritrarre gli animali è evidente nei dettagli del bue e dell'asino all'estrema sinistra e dei cani le pittoresche rovine a sinistra sono un simbolo del decadimento dell'antichità pagana con la venuta di cristo questo dipinto conferma l'abilità di chardin nel realizzare le nature morte raffigura un bel mazzo di fiori racchiusi in un vaso di delft riconoscibile per il blu e il bianco delle decorazioni si tratta dell'unico vaso di fiore realizzato dall'artista giunto fino a noi gauguin e charles laval si recarono a panama nell'aprile del 1887 e vi rimasero per alcune settimane prima di andare in martinica dove fu realizzato questo paesaggio la vista è sulla baia di saint pierre con il monte pelè sullo sfondo una visione di paradiso tropicale che il pittore ricercò e dipinse per tutta la sua vita van gogh entrò nel manicomio di saint paul de musol a saint remy nel maggio 1889 come paziente volontario nelle prime settimane del suo trattamento non lasciò mai il manicomio e iniziò a dipingere all'aperto solo nel giugno 1889 rimase stupito dalla vista degli oliveti e li fissò sulla tela questo è l'unico disegno preparatorio noto per il dipinto di poussen intitolato ballo della vita umana conservato nella wallace collection di londra fu commissionato dal cardinale giulio rospigliosi in seguito papa clemente nono un'allegoria della fortuna e del ciclo della vita umana con le personificazioni della povertà del lavoro della ricchezza e del piacere nella sua maturità tiziano sviluppò una maggiore intensità espressiva non solo nelle opere religiose ma anche in quelle mitologiche diana e a teone fu dipinto come parte di una serie di sei grandi tele per il re filippo secondo di spagna teba alla base della serie è quello degli amori degli dei dell'olimpo e delle circostanze solitamente tragiche per tutti i mortali coinvolti questo dipinto è una delle scene di genere realizzate da velasquez all'inizio della sua carriera una cuoca anziana seduta di fronte a un piccolo recipiente di terracotta sta cuocendo le uova sul fuoco l'occhio dell'artista ha registrato ogni dettaglio di questa umile cucina antoin vato portò il genere della festa galante al suo punto più alto quando creò un mondo misterioso malinconico e onirico popolato da persone ben vestite che flertano e giocano con grazia un sottile e irresistibile erotismo anima tutto il dipinto il dipinto è stato eseguito dalla bottega di leonardo tuttavia si ritiene che il maestro stesso abbia preso parte alla produzione di questa versione della madonna dei fusi un fatto suggerito principalmente dalla roccia in primo piano e dal volto dei ragazzi che sembrano espressione diretta della maestria di leonardo questo è un bozzetto per l'omonimo dipinto murale ad affresco eseguito da tiepolo nella sala da ballo di palazzolabia a venezia per realizzare opere di così grande dimensione e complessità era indispensabile per gli artisti produrre diversi studi video ti è piaciuto metti un bel like lasciami un commento condividilo con i tuoi amici ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video ciao